Oggi è quasi finito, Presidente. Caro Verdini e cari colleghi DEM, il Senatore Romani vi ha dimostrato quanto siete inutili per questa maggioranza. Quando voi fate i capricci ci sono loro, ci sono loro che li aiutano. Voi non servite assolutamente a niente. Presidente, visto come stanno le cose, abbandoniamo i lavori. Il gruppo della Lega coerentemente abbandona i lavori, consapevoli che c'è in atto un tentativo di truffa in quest'Aula e a quel punto eventualmente ritorneremo. Ma non per votare, Presidente, ma per fermare le vostre truffe. State ammazzando la democrazia e noi non vogliamo essere vostri complici. Arrivederci.